Penultimo appuntamento con la rassegna culturale Castellabate, il luogo dell'incanto, domenica 19 maggio alle ore 21, presso il Castello dell'Abbate, nel centro storico, andrà in scena il sindaco Pescatore. Una storia vera, tratta dall'omonimo libro di Dario Vassallo, con i testi di Edoardo Erba e la regia di Enrico Maria Lamanna. Interprete, eccellente, il noto attore Ettore Bassi, attualmente tra i protagonisti della trasmissione Raiuno Ballando con le stelle, che vestirà i panni di Angelo Vassallo, accompagnato in scena dai bambini di Castellabate, selezionati per l'occasione. Lo spettacolo, ad ingresso libero, è inserito nel programma di eventi promossi dall'assessorato al turismo e alla cultura del comune di Castellabate, e cofinanziati con i fondi POC della regione Campania. Lo spettacolo teatrale racconta la storia di un eroe normale, Angelo Vassallo, il sindaco Pescatore, che la sera del 5 settembre 2010, mentre rincasava alla guida della sua auto, è stato barbaramente assassinato. Un uomo che ha sacrificato con la sua vita l'impegno di amministrare per difendere e migliorare la sua terra e le sue persone. Esempio di rigore nel rispetto della legge, con modi severi e fermi, che però permettono di mantenere intatta la bellezza del suo comune Pollica e del Cilento tutto. Il 19 ci sarà una serata molto importante, perché è dedicata ad un amministratore, un amministratore che purtroppo è stato ucciso otto anni fa, se non sbaglio, Angelo Vassallo, quello che viene definito un eroe normale. Quindi ci sarà la rappresentazione teatrale su un testo scritto da Dario Vassallo, che è appunto il presidente dell'associazione della fondazione Vassallo, fratello di Angelo, che è il sindaco pescatore con Ettore Bassi, un attore molto importante. E quindi questa rappresentazione si terrà al castello dell'Abbate. Voglio anche anticipare che non finisce qui, perché il primo giugno a Villa Matarazzo avremo un recital di un attore importantissimo, che è Giancarlo Giannini. Grazie, quindi.